Niente è tutto. Niente se non si vive quello che si è ricevuto. Il battezzato può essere completamente come un altro uomo o può essere tutt'altro. Il battezzato riceve una vocazione, che è quella della santità. Che è quello del vivere in comunione con Cristo. Il battezzato è l'uomo che è stato immerso in Cristo, nella sua morte e nella sua resurrezione. E' l'uomo che è morto al peccato e che risorge con Cristo a vita nuova. E' la persona che ha ricevuto e vive una vita diversa, perché ha dentro di sé il germe della vita eterna. Significa che dal battesimo non muore più. E tutto questo dovrebbe cambiare il modo e la prospettiva di vita di questa persona. Io non vivo per i pochi anni che ho, ma vivo per il cielo, per l'eternità. Allora anche alcune cose diventano relative, perché il mio orizzonte è diverso. Vedete allora che vivere pienamente, con coscienza, il battesimo, significa vivere una vita radicalmente diversa. Perché se il mio orizzonte non è più la morte, ma se il mio orizzonte è il paradiso, è la vita con Dio, il modo di vivere è diverso. In un primo caso, se questi sono i miei anni di vita, allora cerco di viverli a fondo, spendendo tutto quello che ho, facendo tutto quello che voglio, perché mi voglio divertire in quel poco di tempo che mi riserva la vita. Se la mia vita, invece, è girata a un senso diverso, a un orizzonte diverso, tutto quello che faccio, tutte le scelte della mia vita, sono in quella direzione. E allora si capisce quindi che il battezzato ha una vita diversa. Il dramma, in particolare delle nostre società occidentali, della Chiesa occidentale, è che tanti nostri fratelli, forse noi, non viviamo come battezzati, non viviamo questo sacramento, non capiamo che già siamo inseriti in Cristo. e la vita nuova ce la siamo dimenticato, lasciando il vecchio Adamo vivere dentro di noi. Allora prendere coscienza della nostra chiamata, della nostra vocazione, di quello che abbiamo ricevuto e di quello che siamo chiamati ad essere, questo cambia tutto. Allora prendere coscienza della nostra chiamata,